Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni show. Quest'oggi affrontiamo l'ultima popolazione affrontata in questo microciclo sulle popolazioni di Iraq, la terza popolazione di Iraq per numero, ovvero i turchi di Iraq, che si possono chiamare anche turcomanni, ma anche se la parola Iraq è un po' esagerata preferisco chiamarli così perché se no uno pensa che siano una popolazione un po' diversa, invece come vedremo oggi la loro storia li lega molto di più ai turchi dell'Anatolia rispetto a qualsiasi altra popolazione turca. Ma appunto iniziamo. Innanzitutto ci sono dei turchi in Iraq, sì e anche tanti. Questi turchi diciamo arrivarono con una prima ondata legata agli arabi che appunto cercavano sia schiavi sia banalmente militari per i loro eserciti e si affidarono in maniera sempre maggiore ai turchi che quindi arrivarono per la prima volta in queste aree, ovvero nelle aree del moderno Iraq. Una seconda ondata arrivò poi con i Seljukidi che fu la prima popolazione turca a governare effettivamente l'Iraq e quindi a permettere una presenza stabile nella regione. E poi la terza ondata, quella ancora più importante, si manifestò con gli ottomani che appunto conquistarono il moderno Iraq con Baghdad e in particolare lo fece Solimano e ciò contribuì a stabilizzare ancora di più i turchi nella regione. Anche perché si può fare lo stesso discorso fatto ieri per i kurdi, ovvero erano delle popolazioni in questo caso esattamente turchie poste di fatto al confine proprio perché i turchi di Iraq di fatto abitano più o meno gli stessi territori dei kurdi. Ci sono delle città effettivamente addirittura contese delle altre che non lo sono ma comunque più o meno l'area è quella e quindi questo fece incredibilmente piacere a tutti gli ottomani che quindi avevano di fatto le spalle coperte. Fra l'altro Solimano in particolare manifesterà un amore incredibile per Kirkuk, tanto da chiamarla Goikürt, ovvero Patria Celeste. Io sono andato un po' a vedere, diciamo, mi sono fatto anche un po' un'idea di questo fatto e penso che per carità per quanto ci fosse un discorso molto strategico per quello che abbiamo detto prima effettivamente in una certa maniera quell'area dell'Iraq può essere considerata una sorta di patria dei turchi, almeno patria degli ottomani. in quanto effettivamente, diciamo, è stato il loro primo passo vero in Medio Oriente poiché l'Iran ha dei contatti storici molto più frequenti appunto con le popolazioni turche quindi non è per essere chiaro di una stranizza che un turco nella sua storia vada in Persia ma lo è sicuramente molto di più che arrivi nel Medio Oriente o nel Mediterraneo in particolare e quindi quello può essere considerato tale, però questa è una cosa un po' romantica. detto ciò arriviamo un po' alla fine perché ormai abbiamo capito, quindi faranno tutte le stesse cose più o meno dei kurdi solo che essendo turchi naturalmente fedeli all'impero ottomano. Il problema in questo caso ancora maggiore sarà una volta che l'impero ottomano non ci sarà più perché se da una parte avevamo una popolazione altra che quindi poteva addirittura reclamare uno stato proprio i turchi di fatto glielo hanno dato e glielo hanno dato un po' di spazio più in là. Inizialmente Ataturk e il suo governo fecero di tutto per assicurare che quell'area rientrasse a far parte della Turchia moderna ma non essendoci riusciti de facto si accordarono con il trattato di Ankara del 1926. In questo trattato si stabilì che quell'area che i turchi locali chiamano Turkmeneli diventasse definitivamente parte dell'Iraq anche se gli abitanti dovevano comunque poter continuare a professare la loro identità turca dovevano comunque continuare a studiare nelle scuole il turco e comunque visto che l'interesse principale dei fondatori dell'Iraq ovvero gli inglesi era quello di assicurarsi i puzzi petroliferi della zona che anche la Turchia aspettasse una parte di quel ricavato e purtroppo così questa parte di Turchi venne non abbandonata poiché i contatti furono continui e costanti anche oggi comunque sono molti contatti fra quell'area lì dell'Iraq e la Turchia in particolare ma sicuramente diciamo portò a tanti problemi anche perché appunto io non parlerò oltre al trattato di Sevres che abbiamo appena detto però ecco diciamo che fu una delle popolazioni che venne perseguitata dal partito Ba'eth e in generale da Saddam Hussein che vide come per i curdi un elemento potenzialmente disgregante nel suo ideale di nazione quanto meno araba detto questo io mi fermo qui vi ricordo di andare a visitare la pagina Facebook, Instagram, Spotify e andare a visitare il nostro sito e detto questo alla prossima grazie a tutti